Il libro che vi vorrei presentare si intitola La lingua salvata di Elia Scanetti ed è un bellissimo libro che racconta la storia dell'infanzia e della giovinezza di questo scrittore. È un libro molto bello perché non è solo una semplice biografia di fatti, ma è una ricerca di significati, una ricerca anche di continuità rispetto a quello che lo scrittore è attualmente. Attraverso una serie di ritratti molto vividi e molto belli, lo scrittore ci fa calare in una serie di avvenimenti importanti che spiegano quello che lui è oggi. Io sono una psicologa dello sviluppo e mi occupo di bambini, adolescenti, adulti. A me interessa capire come lo sviluppo della persona si delinea nel ciclo di vita, nell'arco di vita, in funzione proprio delle prime esperienze e ho trovato in questo bellissimo romanzo una testimonianza artistica del mio approccio e della mia lettura del ciclo di vita. La storia si dipana attraverso molte città dell'Europa, appunto la città a sud del Danubio in Bulgaria dove si svolgono le prime fasi della vita dello scrittore di questo bambino, di Elias, e poi successivamente Londra dove invece si delinea la figura del padre che muore però giovanissimo proprio in questa città. Successivamente Vienna e poi Zurigo, l'età della giovinezza. Attraverso le città e anche ricordi molto vividi che lui ha delle esperienze, in qualche modo tratteggia tre nuclei importanti di cui vi vorrei parlare. Il ruolo delle lingue, non a casa appunto il titolo è la lingua salvata, dove appunto Elias ci racconta che nella sua infanzia viveva una realtà dove spesso si parlavano sette, otto lingue e i suoi ricordi sono collegati alle lingue, alle esperienze diverse, culturali, linguistiche che ha con le diverse figure che animano la sua infanzia. Il rapporto con la madre, il secondo nucleo molto importante e infine il terzo nucleo che riguarda il ruolo della cultura e soprattutto dei maestri come facilitatori nell'acquisizione della conoscenza e della cultura. Sul ruolo delle lingue ci sono alcuni brani nel romanzo che sono molto belli, molto eloquenti. Vi vorrei leggere in particolare questo in cui ricorda questa babele di lingue in cui il bambino viveva. Fra di loro i miei genitori parlavano tedesco, lingua di cui io non dovevo capire nulla. Con noi bambini, come coi parenti e con gli amici, parlavano spagnolo, che era poi la nostra vera lingua quotidiana. Ma si trattava di uno spagnolo piuttosto antiquato, che ho udito spesso anche in seguito e non ho mai più dimenticato. Le ragazzine che lavoravano in casa parlavano soltanto bulgaro ed è probabile che questa lingua io l'abbia imparata soprattutto con loro. Ma poiché non frequentai mai una scuola bulgara e lasciai Ruskjup quando avevo solo sei anni, il bulgaro l'ho ben presto completamente dimenticato. Tutti gli eventi di quei miei primi anni si svolsero dunque in spagnolo o in bulgaro. In seguito mi si sono in gran parte tradotti in tedesco. Solo eventi particolarmente drammatici, delitti e morti per intenderci, nonché i più grandi spaventi della mia infanzia, mi sono rimasti impressi nella loro frasiologia spagnola, ma in modo estremamente preciso e indistruttibile. Tutto il resto, vale a dire il più, specialmente tutto ciò che era bulgaro, come appunto le favole, me le porto in testa in tedesco. Il secondo nucleo è il rapporto con la madre, è un rapporto intenso, bellissimo, che si depana lungo tutto il libro, lungo tutto il romanzo. È veramente toccante perché attraverso il rapporto con la madre il piccolo Elias scopre tanti autori classici, anche contemporanei e poi anche da giovane in qualche modo diventa per lui il ponte e l'apertura, la strada verso la cultura e verso la conoscenza. Il rapporto con la madre è sempre molto intenso, Elias era il primo genito e quindi aveva un rapporto di forte vicinanza con la madre e la madre in qualche modo era anche la figura più colta, più artistica della famiglia e quindi lo apre verso la lingua, verso la cultura, verso la conoscenza, l'ambito a cui lui anelava o cercava di arrivare. Il rapporto è un rapporto, come vi dicevo, molto intenso, in tanti momenti è fusionale, identificativo, in altri momenti invece è conflittuale e di gelosia. Sicuramente è il rapporto tra un giovane scrittore, un giovane studioso che cerca di identificarsi con la cultura, con la conoscenza, quell'ambito a cui lui aspira fortemente. La cultura e la conoscenza sono il filo rosso che insieme alla madre ritroviamo in tutto il libro, in tutto il romanzo e spesso nel ricordo del passato è vivida la rappresentazione della scuola, delle esperienze formative, dei maestri. Credo che questa dimensione di chi guida l'allievo verso la conoscenza è particolarmente rilevante in questo scrittore e in vari momenti lui ricorda e rappresenta il ruolo significativo che i vari maestri hanno avuto nella sua vita. Vorrei leggervi un passaggio molto importante in cui Elias Canetti racconta la storia e anche il ricordo che lui conserva dei suoi maestri di Zurigo e dice ora che li passo nuovamente in rassegna sono io stesso stupito della varietà, dalla singolarità e dalla ricchezza di sapere dei miei insegnanti zurichesi. Da molti di loro ho tratto degli insegnamenti conformi con le loro intenzioni e per quanto ciò possa sembrare strano la gratitudine che provo verso i miei insegnanti a mezzo secolo di distanza continuo ad aumentare di anno in anno ma anche quelli da cui ho imparato meno mi si stagliano davanti con una tale evidenza come persone singole come figure tipiche che basta questa a farmi sentire in debito. Sono i primi rappresentanti di ciò in cui più tardi avrei riconosciuto la vera essenza del mondo. La sua popolazione sono inconfondibile che una delle qualità di rango più alto e al tempo stesso sono diventate anche delle figure tipiche. Ciò non toglie nulla alla loro personalità. Sì, è un libro questo di Elia Scanetti che è particolarmente bello e anche particolarmente rilevante. Sin da subito si è definito e delineato come un romanzo classico. È particolarmente toccante nella sua narrazione delle transizioni e delle fasi della vita di questo scrittore in cui lui ricerca il significato della sua storia e quello che lui è a 50 anni dall'infanzia e dalla giovinezza. Spero che questo mio racconto vi solleciti a leggerlo e ad apprezzarlo come l'ho apprezzato io. Grazie a tutti.